buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale b word 2.3 e cosa parleremo parleremo del secondo episodio di cauter of experiments e nel recente episodio il gioco è iniziato giusto invece qui che cosa potremmo fare altri 25 livelli in più e più 25 sembrerebbe 50 livelli in tutto altri 50 livelli dovremmo affrontare d'accordo buona visione vi auguro ecco qua ragazzi siamo qui nel secondo episodio di cauter of experiments aspettate questo era orme vischiose vediamo facilissimo sto livello raga no vabbè ci sono riusci da posto no piano piano bravissimo no qua è più semplice ve lo dico io perfetto mamma mia ottimo lavoro ottimo lavoro piano 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 questo è stato ecceptional 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 è stato un po' difficoltoso ma ci sono riuscito dai no non ci credo no no dai oh amazing intelligence non ci credo 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 ottimo lavoro no così non mi piace non ci credo ottimo lavoro è stato un po' faticoso ma ci sono riuscito è stato un po' faticoso ma ci sono riuscito ok è stato una mossa astuta non ci credo nooo no non ci credo non ci credo non ci credo bene bene non ci credo non ci credo non ci credo man ma zona non ci credo non ci credo non ci credo MEN I'm sure you can do it No Ottimo lavoro Ottimo lavoro Ottimo lavoro Ottimo lavoro Let's try again I'm sure you can do it Difficile, raga Finally No, but it's very easy Beautiful Exceptional No 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 Non ci credo, dai No 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 Grazie a tutti. 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 SM... Grazie a tutti. No, così non va bene. Ecco, perfetto. Perfetto. Grazie a tutti. Ottimo lavoro. E... Perfetto. E... Perfetto. Perfetto. E... Perfetto. 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 Aspetta. Aspetta. Perfetto. 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 No va bene va. Perfetto. ok ragazzi continuiamo si però sarà un po' complicato eeeh aspettate semplice perfetto sarà un po' azzardata questa idea eh ve l'ho detto io che era un po' troppo azzardata forse così vediamo si però non ho preso quella stella e questo è il problema allora vediamo di risolvere non era quello che volevo eh un pochino ragazzi nooo no no così non va bene perfetto si domani va e aspettate ah forse ho capito si si ho capito così forse nooo aspetta non ho capito proprio niente forse ora si si va bene ma non ho capito niente ci ho riuscito però è stato un po' faticoso l'ultimo nooo aspetta perfetto ci siamo riusciti raga finalmente nella prossima volta faremo questo il bagno e la presa robotica praticamente va bene intanto qua abbiamo fatto ormai schiose e misilistica quindi io qui in questo episodio ho dovuto affrontare livelli appiccicosi e livelli missilistici però un po' difficile ma tutto sommato tutto bene il bagno penso che dovrebbe essere facile visto che una volta ci avevo giocato invece questi due livelli sono no anzi tre livelli sono nuovi scivoli di bambù la collina delle formiche e presa robotica beh ragazzi spero tanto che questo video vende di Coutrope il secondo episodio gli experiments in questo episodio mi tocca affrontare livelli appiccicosi e misilistici vi sia piaciuto iscrivetevi al canale un bel like e noi ci sentiremo alla prossima ciao